Ho detto che è una partita che è un po' la prova del nove, no? Perché c'è inaspettatamente questo Renato e Primo in classifica, che poi ti chiederò anche questa cosa, quanto inaspettata è, e per il VG CERZA è un bel banco di prova, no? Sì, è un bel banco di prova, ma siamo abituati ad affrontare le sfide, siamo abituati ad affrontare squadre che giocano sempre col coltello tra i denti contro di noi e cercano sempre di fare la prestazione alla partita importante. Di certo la classifica in questo momento dice che Renate è primo in classifica, 5 vittorie su 5, quindi siamo carichi e vogliamo dimostrare, come abbiamo sempre fatto, di essere pronti ad una gara, ad una partita che appunto ci vede contro una squadra che fino ad oggi ha sempre vinto. Ma questo non è che i risultati che hanno avuto, cioè sono da leggere, da valutare in modo, diciamo così, un po' diverso sicuramente dalle squadre che abbiamo avuto contro fino ad oggi. Sono primi in classifica meritatamente, hanno giocato delle buonissime gare, sono una squadra molto efficace, una squadra molto concreta, diciamo così. In alcune cose assomiglia a qualche squadra che abbiamo, contro cui abbiamo giocato già prima, in altre è chiaramente diversa. Come diciamo sempre, affrontiamo squadre ed ogni squadra presenta caratteristiche diverse. Noi dobbiamo essere sempre pronti, dobbiamo essere sempre consapevoli che durante la partita può succedere anche l'imprevisto e qualcosa che ci mette il bastone tra le ruote. È successo anche l'altro giorno a sesto con l'Alcione il gol, l'autogol che abbiamo fatto. Nonostante questa difficoltà la squadra ha reagito da squadra forte e quindi sappiamo benissimo che ogni gara presenta delle difficoltà, ma se con la forza del gruppo, con la forza della squadra e l'intensità, lo spirito di una squadra che vuole andare a vincere, si può ribaltare anche, si possono ribaltare anche situazioni negative. Senti, come sta Sandon? Sandon è recuperato, è a posto, già ieri si è allenato con la squadra, è a posto al cento per cento. Gli altri? Gli altri li guardiamo poi oggi pomeriggio, ieri situazioni particolari non ce n'erano, tolto Carraro, gli altri tutti a disposizione. Dalla partita contro l'Alcione siamo usciti qui senza grossi problemi insomma. C'è il greco ovviamente squalificato? Eh sì, immagino, immagino di sì. Tra l'altro siamo andati a rivedere le immagini tattiche, come vi avevo già detto, io di greco mi fido perché un ragazzo onesto non ha fatto assolutamente niente che poteva essere avvicinato ad un'espulsione. È vero che ha spintonato l'avversario, ma non è assolutamente un gesto da espulsione. Abbiamo le immagini di quello che è successo e al di là del danno di quei due o tre minuti in dieci, ma poi subiamo questo danno di un giocatore importante che purtroppo non avremo. Mi auguro solo una partita, ma a volte in questi casi anche due, ma sarebbe assurdo perché, ripeto, rivedendo le immagini non c'è assolutamente un gesto da espulsione e tra l'altro a tre metri dal guardaline che ha chiamato l'arbitro. Io veramente mi stupisco di queste cose. Siete poi confrontati durante questi giorni oppure non avete ancora avuto modo? Di cosa? Non ho capito. C'è le difficoltà che ha palesato corta? Ma guarda, le difficoltà ne abbiamo sempre tante. Le andiamo ad affrontare come abbiamo fatto l'anno scorso e abbiamo superate tutte. Quindi le difficoltà e i problemi sono fatti apposta per superarli. all'interno di una stagione di difficoltà, ce ne sono tante, se ne affrontano tante, questa squadra ha dimostrato di saperle superare sempre. Per quanto riguarda, siccome è un incontro talmente ravvicinato, una volta avevi detto che avevi due dubbi poi invece hai riconfermato 11 su 11. Questa volta pensi di fare un po' di turnover oppure riparti con 11 su 11? Ma sì, sicuramente qualche variazione sui singoli ci sarà. Questo è in dubbio. Abbiamo giocato solo due o tre giorni fa e quindi qualche cambio ci sarà anche perché quello che ha dimostrato e sta dimostrando questo gruppo, soprattutto nelle ultime gare, è di avere non solo gli 11 in campo ma anche chi subentra, di avere la forza, la qualità per giocare un campionato d'alto livello. E quindi sono consapevole, so per certo che ci sono tanti tanti ragazzi che sono pronti ad entrare in campo dal primo minuto. Stavo chiedendo infatti, domenica Zonda ha fatto tutta la sua parte e anche di più nel momento in cui hai dato un assetto un po' differente della Abda. Abbiamo visto che c'è Cester, non credo per domani sera, ma comunque è il recupero. In ogni caso diciamo che in quel blocco si è basato tranquillo. Sì, abbiamo tante soluzioni, abbiamo diverse... è chiaro che li avremmo voluti tutti, tutti a disposizione. E il rimpianto, il rammarico è quello che ho detto prima, che Freddy Greco è stato punito ingiustamente l'altro giorno. E quindi da un errore del genere andiamo a pagarlo poi più in là. Ma ripeto, abbiamo comunque soluzioni e alternative molto molto valide. Senti, come modulo di gioco? Ancora trequartista, due punte? O pensi... Sì, sì. Noi proseguiamo sulla nostra strada, sul nostro percorso. Poi è chiaro che qualche aggiustamento in funzione delle caratteristiche dei giocatori che mettiamo in campo e delle caratteristiche dell'avversario è normale che ci saranno. Però l'impronta, l'assetto tattico nostro è quello. E quale ti ha questione? Vedi meglio? Della morte in questo periodo oppure Rauti può farlo altrettanto bene? No, trequartista della morte, trequartista è Capone. Rauti è un attaccante, Rauti è una punta, è una seconda punta, è una punta. I ruoli in questa squadra sono ben chiari, non ci sono dubbi in questo senso. Rauti è un attaccante e da trequarti ci sono Capone della morte. Bene. Hai capito? Grazie. 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 Va bene? No, no. Sì, ci ho freddo. Ebbene, io imparo, ho tutto da imparare da Stefano. Volevo chiederti questa partita come te l'aspetti? Perché Renate, essendo capolista, insomma, voglio dire, magari non viene qui a fare la solita tattica di pensare a difendersi e non impostare il gioco. Come te l'aspetta? Ma, Renate me lo aspetta una squadra equilibrata come ha dimostrato di fare tutte e cinque le gare. Non è una squadra che va all'arrembaggio, non è una squadra che difende ad oltranza, è una squadra che si gioca la sua partita libera di testa anche in virtù del fatto che hanno vinto le prime cinque gare, ma sì, si giocano la gara, si giocano la partita. Non è la classica squadra che punta tutto sul palleggio, di una squadra propositiva al 100%, non è nemmeno una squadra che si difende ad oltranza. Poi dovremmo essere bravi noi, come abbiamo fatto spesso, ad imporre il nostro gioco e lì poi si va a fare la differenza.